Amici, ben trovati in questa nuova puntata di Die Pro Die, stai lì, prego prego, scusate che stiamo, prego prego, non c'è problema, ah da quella parte, buonasera, buonasera signora, prego prego, stiamo registrando, la rifaccio, la rifaccio, anche perché siamo via Manzoni, Corsa Garibaldi, Piatta Crispi, siamo a Nuoro, posso andare? Posso andare? Amici, ben trovati, siamo a Nuoro, qui sulla vostra destra c'è l'ospedale civile San Francesco, io invece sono qui, in via Pio di Feno, angolo Violante Ligieri, sì, proprio a Nuoro ci stiamo per trasferire, perché dal centro della città, adesso andremo in un studio di registrazione, andremo a casa di, dai che coglione che sei, adesso stai, amici? Parola, vi faccio tutto, parola a Federico Maricone, vai 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 vai, ragazzi non è possibile, non si può fare queste cose qua, allora, mi stanno facendoci, dove siamo? A Nuoro, no, e in che via? Via Chiglie del Feno, angolo? Via Dante Ligieri, via Dante Ligieri, via Dante Ligieri, su a tua destra? C'è? Orsiterale civile San Francesco Ok, andando a sinistra? Non lo so C'è il Magistero? Magistrale Magistrali Magistrali Magistrali